Ed eccoci con Jimmy Bruni Prima curva, difficile, vediamo le difficoltà E il testa a coda di Bruni in quel tratto Sì, e noi andiamo a sentire Jimmy Bruni, credo Sì, con Jimmy, allora è una pista difficile, tecnica, impegnativa Lo si era detto alla vigilia e che induce anche ad errori Sì, no, è stato un errore, quando uno va al limite succede, succede anche a Schumacher Eccoci ora con Michael Schumacher Ma intanto c'è da dire che Raikkonen ha fatto un'ottima prestazione E si conferma essere appunto il tanto proprio prima dell'inizio del giro La voglia di aprire subito gas sul traguardo Prima del traguardo ha fatto sì che Michael Schumacher ha avuto già un'escursione E c'è il testa a coda, la prima curva Il guardia del pubblico, Michael Schumacher, pirouette Che condiziona la sua qualifica E l'errore che non ti aspetti ha gelato un po' tutti Anche l'esterefatto presidente Montezegno Ricordo l'intervista di poco fa di Bruni a Giovannelli Ha detto anche Schumacher sbaglia E' proprio nello stesso punto dove era uscito lui Grazie a tutti Grazie a tutti